bentornati bentornati sul canale bentornati sul canale sta giocando l'atalanta prossimo avversario proprio dell'inter sabato prossimo bergamaschi sono avanti a empoli 2 a 0 2 a 0 con i gol di scamacca e cop meiners quindi un'atalanta sicuramente in salute peraltro a bergamo intanto avvicina addirittura al terzo gol intanto vi ricordo che a bergamo c'è una statistica ci sarà una statistica molto curiosa si affronteranno sabato e due squadre con l'atalanta che non ancora è l'unica non ancora a non aver ancora preso gol in casa e invece l'inter che è l'unica a non aver ancora preso gol in trasferta sembra uno scioglilingua è così perché c'è 0 nella casella dell'atalanta nei gol subiti in casa e 0 nella casella dell'inter nei gol subiti in trasferta vedremo se si continuerà con questo andazzo l'unica è lo 0 a 0 poi altrimenti uno dei due salti magari saltano tutti e due tornando invece a interroma facendo un passo indietro volevo chiudere un po questo capitolo e poi proiettarci altri altri fatti forse anche più interessati con la questione romelu lukaku perché oggi ne abbiamo modi oggi ormai giorni che ne sentivamo di ogni si raccontava di ogni si stanno facendo narrazioni di ogni è corretto secondo me da parte mia mettere anche un punto su quello che è stata la prestazione a livello tecnico tattico dell'ex centravanti dell'inter l'abbiamo detto l'abbiamo visto tutti l'abbiamo analizzata ieri limiti dello sceno secondo me molto per colpa di una squadra scesa in campo per lo 0 a 0 facendo barricate e difendendo pure male perché se è vero che eri scesi in campo per quell'obiettivo e dopo 15 minuti l'inter aveva già avuto tre palle gol attraverso i celanolu il tiro la vicina di tueran e l'esterno sinistro a fil di pali di di marco qualcosa non non è che era evidentemente qualcosa non era stato registrato nel migliore dei modi però su lukaku allora si era fatto una gran cagnara si era parlato addirittura di possibile sospensione della partita per molestia acustica rendetevi conto ragazzi non più tardi di di sette otto giorni fa in torino inter dopo l'influenza insurse barella fino al cambio era stato subito dai fischi dai tifosi granati no ogni tocco palla giù fisico una cosa che si ripete su tanti campi non ho mai sentito a nessuno parlare di sospensione della partita poi ripeto da casa pure quei fischietti si sono sentiti pure poco al di là del fatto che lukaku abbia preso pochissime volte il pallone ma si sono sentiti veramente poco poi c'è qualcuno come ad esempio sul corrello sport che dal nulla se non uscito con lukaku non ha dato il 5 nel saluto ad acerbi e di rimando non lo ha ottenuto da barella così io quando ho letto stamattina prendo la segna stampa vabbè poi lo scrivono ste robe però io l'avevo visto in qualche modo mi era sembrato che comunque il 5 più o meno convinto c'era stato dato era stato dato conto a tutti con tutti quindi pure con lautaro poi si con acerbi qualcosa si vedeva che c'era un qualcosa di più barella pure qualche ghigno però non ho visto questa roba raccontata al quello sport e in effetti le immagini hanno confermato la mia versione che non c'è stata questa questa situazione la cosa che mi ha fatto sorridere è che per settimane non per giorni per settimane siamo andati avanti in italia a livello mediatico a caricare questa partita come l'inter tutta dai tifosi all'ultimo di raccattapalle contro lukaku si preparava il clima dell'odio si preparava attenzione ai burazzisti come se si volesse trovare il piccolo appiglio andando a scandagliare il più piccolo frame per in qualche modo penalizzare l'inter non si è trovato nulla se non due cicchita giganti sugli spalti tutto da verificare siano all'indirizzo di lukaku per una presunta volontà di andarlo a offendere all'ero razzista è chiaro che se quello io prendo quei due e li e li banno da per sempre dagli stadi non per due giornate però per il resto tutto questo clima d'odio visto dei fischi nemmeno così assordanti anzi c'era un fischio antipatico che partiva proprio dalla tribuna e secondo me era di qualche tifoso della roma infiltrato perché ogni qualvolta l'inter andava in attacco nei momenti inclusi andava questo fischio come andare come per andare a disturbare l'azione offensiva dell'inter era proprio un fischio del tutto simile a quello dell'arbitro mentre gli altri si capiva che erano fischi ma ripeto molto soffusi non so io ora se era l'audio da sonno oppure se la cosa mi ha fatto sorridere ripeto perché c'è stata tutta questa carica tutta questa roba è l'attesa la grande attesa lukaku che torna a san siro è le squadre nel tunnel si intravede lukaku che un po sorridacchia con cialanolu un po con mikitana sul resto il nulla cerbi che si volta nessuno incrocia lo sguardo mezzogiorno di fuoco sembrava se mancava solo la colonna sonora di dei film no di beh non mi viene nemmeno un nome abbiate paziente sergio leone e nemmeno morricone meno male non c'è pure una figuraccia entrano le squadre in campo premium spot ma come ma fammi vedere l'ingresso in campo e quando entrano e tutto il pubblico doveva fare l'inferno così alle parti nell'inferno appicciato su premium spot rientrano che praticamente 4 3 4 ne fanno non 1 3 4 di fila rientrano che praticamente l'inno della serie ha finito vabbè adesso ci sarà il famoso la famosa carrillata no di quando quando c'è il batti 5 con lukaku la telecamere sicuramente seguiranno lukaku no 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 invece le telecamere di sfuggita vanno sulla destra lukaku va sulla sinistra e tu devi seguirlo lì con gli occhi in se capisce praticamente niente poi perché invece perché per fortuna ci sono anche gli amatori gli amatoriali che dalle tribune registrano e allora tu sei lì magari e ti vedi il video e capisci poi quello che è successo però fa sorridere perché hanno caricato l'alliello di media di media di media di stampa hanno caricato questa partita per settimane e al momento clou prima la pubblicità anzi le pubblicità e poi una gestione della della carrellata dei saluti totalmente rivedibile voglio dire tornando al discorso anche dei degli zoom selvaggi quando non è il caso di farli perché c'è un'azione pericolosa alle inquadrature sugli spalti della gente che si scaccola o si sbaciucchia che non è il caso perché l'azione in movimento la palla in movimento poi focus sugli sulle panchine sui tecnici e non è il caso perché si sta giocando o ai replay di un'azione magari di tre minuti prima e ti ritrovi dalla nell'altra area dici come è successo boh non si è capito niente no e tutto questo è il prodotto secondo me non solo in salavarra ma ci vorrebbe qualcuno di competente a livello calcistico anche in cabina di regia perché da quello che si vede calcio dei tempi calcistici non ci capiscono niente e ti fanno veramente già tra telecronisti ormai scimiorlatrici totali i commentatori re dei re dell'ovvio hanno aggiunto pure l'opinionista della moviola ovunque fa più danni che della grandine già quelli che ti distraggono totalmente al racconto calcistico invece di di metterti nel racconto calcistico di favorirti la concentrazione no proprio ti mandano da tutta altra parte ci si mette pure la regia e insomma poi ripeto no santi numi ma si paga l'abbonamento ma è necessario il premium spot lo spot la riduzione dello schermo tutto questo per dire che alla fine non è successo niente di tutto quello che si non sente qualche fischio sparuto tra l'altro lukaku non ha toccato nessun pallone nessun contrasto cattivo con nessuno partita totalmente liscia e allora quello che mi chiedo io ma ne vale la pena fare creare quest'onda questo tsunami mediatico per partorire il nulla perché per premio spot saluto